amici canale europa sport benvenuti a basket zoom europa il nuovo format di canale europa sport in cui parleremo e affronteremo i temi più importanti del basket europeo e italiano e lo faremo insieme ai protagonisti del basket come c'è igor boracchi buonasera e benvenuto ciao ciao a tutti e insieme a noi ovviamente perché non siamo da soli c'è simone stanghelini allenatore del sanga basket milano e poi lasciate questa presentazione è un grande piacere insomma è venuto a trovarci ed è con noi in questa puntata giordano bortolani giocatore dell'olimpia milano che insomma con il quale affronteremo temi di eurolega di campionato e ci racconterà insomma un po di cose anche divertenti di quello che è il mondo del basket in sostanza stai tranquillo che noi ti interroghiamo adesso proprio quindi sarai praticamente il centro di questa il club di tutto ciò i guardi partire tu sì allora diciamo subito che mentre stiamo facendo la puntata in questo momento sono in corso anche una partita molto importante di eurolega da era 5 tra il panatinaicos e maccabi vi daremo poi aggiornamenti eventualmente nel corso della trasmissione partiamo proprio dal tema dell'eurolega eurolega che diciamo ha concluso quella che è stata la regola season sono iniziati i play off delle gare avvincenti quasi tutte tranne una che è finita con un 3 a 0 del real madrid sul basconia forse la serie più indirizzata più pronosticata più facile diciamo da da ipotizzare anche se alla fine è stata comunque combattuta real madrid è già è la squadra che ha un posto nel final four di berlino le altre squadre invece dovranno uscire appunto dalle gare cinque che ci saranno perché c'è un perfetto equilibrio in questo momento per quanto riguarda le serie di eurolega vedremo chi sarà la chi saranno le altre tre squadre tra il maccabi appunto e il panatinaicos che stanno giocando l'altra serie su due a due quella tra il fenerbace e il monaco e l'altra serie che tra l'altro anche anche questa effettivamente difficile da decifrare e da capire ma è quella tra il barcellona e l'olimpiacos tutte squadre che meritano di andare al final four poi magari affronteremo bene alcune di queste però io prima di parlare di eventuali partite che vedranno le finaliste dell'oliga vorrei fare un sunto è un diciamo un discorso su quello che è stato il percorso delle squadre italiane in eurolega abbiamo avuto quest'anno due squadre che sono state in milano dove abbiamo anche un giocatore che la rappresenta e bologna e tra poco andremo a punzecchiarlo e tra poco per quello che è stato il il cammino appunto durante la competizione possiamo dire giordano perdonami se sbaglio che per milano forse è stata una grossa delusione quella di anzi togliamo il forse quella di non arrivare neanche alla post season di eurolega in un anno dove addirittura diciamo c'era la possibilità di fare i play in e quindi era allargata 10 squadre non più a otto per arrivare alla post season e milano non è riuscita a centrare l'obiettivo permetto di dire il minimo stagionale che era quello della post season un tuo parere su questo purtroppo ti devo dire che c'è poco da dire rispettative erano molto alte alla fine non siamo riusciti neanche arrivare anche se la fiammella della speranza di arrivarci è stata è rimasta accesa fino all'ultima gara è un po così ci siamo svegliati un po tardi sì possiamo dire una stagione è falciliata da infortuni che effettivamente vi ha penalizzato nel momento in cui dalla stagione buona se però però credo che quando ci sono stati tanti infortunati abbiamo fatto delle buone partite la roster di milano è oggettivamente abbastanza è l'uomo però poi sono in tante quindi non lo so non credo che siano stati infortuni per questo stato un problema più grave sincero devo dire sincero però anche diplomatico non lo voglio anche sbilanciare più di tanto perché insomma mi rendo conto che sono discorsi che effettivamente riguardano più l'allenatore io avrei una curiosità e in merito proprio alle partite in eurolega giocate in derby italiano allora giocare il derby italiano di eurolega in eurolega è diverso rispetto allo stesso derby che praticamente in derby oggettivamente in serie a forse in eurolega ancora un po più caldo dai forse poi ovvio stesso farne magari di finali scudetto no però le partite che ho visto quest'anno con le eurolega sembravano ancora un po più sentite rispetto al campionato sì tra l'altro è dell'anno scorso che effettivamente la verità milano bologna è cresciuta molto dalle finali scudetto ormai degli ultimi anni sono tre anni che si contendono il campionato e il fatto di vederle l'eurolega effettivamente secondo me fa bene anche a tutto l'ambiente giustizio italiano insomma questa rivalità questo dualismo tra milano e bologna però mentre milano appunto diciamo è rimasta un po delusa bologna ha fatto dal mio personalissimo punto di vista un eurolega straordinaria peccato per diciamo la parte finale delle della competizione dove effettivamente bologna ha perso diverse posizioni nel ranking però oggettivamente per tratti lunghi tratti della stagione la squadra è rimasta in una posizione elevatissima che addirittura è stata terza sempre in zona playoff ha concluso in zona play in è riuscita a vincere il primo il primo incontro di play in e tra l'altro contro ogni pronostico andando a vincere in turchia contro l'efspielsen e poi dopo ha perso una gara oggettivamente perché non mi piace il format dei play in e dell'eurolega però costringere una squadra a fare due partite nella stessa settimana in trasferta prima a istanbul appunto e poi a basconia contro contro il basconia e oggettivamente bologna è arrivata stanca nell'ultima partita che non gli ha permesso di accedere ai playoff però secondo secondo voi anzi in realtà scusate la stagione di eurolega di della virtus può essere considerato fallimentare perché la settimana scorsa parlavo con addetti ai lavori mi dicevano sì sì perché il bologna e la virtus come società ciò che si aspettava era quanto meno di arrivare alle final four per me no oggettivamente fossili possiamo dire che era inaspettata anzi una stagione del genere o final four forse vabbè erano stati anche secondi o terzi però io avrei detto magari pensavo ai playoff sì poi fanno diventare no mi sembra un po' desiderato però però forse potevano quindi un po il nostro già sono calato un po all'ultimo quindi ci sono un po' ingannato ecco è sicuro quello è vero che comunque una squadra che come dicevi tu mantiene quel posizionamento per la nostra parte pensavo ai playoff di facessi una squadra anche di giocatori esperti non troppo giovani infatti mi dire perché insomma gente come bellinelli come daston che comunque più vicini alla quarantina che alla trentina però oggettivamente di grande valore non so cosa ne pensa anche il mio mico simone che tal'altro con il quale io assisto a tante partite di eurolega quest'anno e proprio quando sono andate a vedere le partite di giordano e abbiamo visto tante pari di eurolega tante squadre insomma che sono passate per milano e cosa ne pensi anche te insomma del campionato di bologna in eurolega io penso che bologna abbia fatto una bellissima stagione soprattutto all'inizio quando appunto per lunghi tratti sono stati tra il secondo e il terzo posto però probabilmente non hanno un organico così lungo da reggere due partite o tre partite addirittura settimana quando c'è stato il detto di turno di eurolega e proprio perché sono una squadra magari un po in là con l'età sui giocatori fondamentali alla fine sono un po calati perché sono arrivati un po cotti alla fine questo secondo me il concetto però definendo affalimentare mi sembra assurdo per me hanno fatto una grandissima stagione in eurolega contando che l'anno scorso anche loro erano entrati nel playoff ed erano arrivati anche loro mi ricordo adesso esattamente come fossero arrivati però erano arrivati in l'ambastanza indietro e quest'anno invece è un po' sembra una stagione incredibile e soprattutto avendo vinto gara 1 c'è l'unica gara che ha giocato del play in a istanbul hanno fatto un'impresa poi giustamente andare a vittoria a giocare due giorni dopo può essere difficile foglia della competizione per entrare nei playoff fare due imprese clamorose e poi nei playoff a giocare con serra al madrid che peraltro in questo momento sta riposando perché si è guadagnata si è guadagnata il diritto insomma di riposare perché effettivamente ha fatto una stagione clamorosa parlavo questa domenica in radio nella mia trasmissione della stagione del real madrid real madrid in stagione ha perso 12 partite mi sembra 7 in eurolega e già voglio dire sarebbe un record tutto rispetto ma di queste 7 4 ne ha perse quando già era certa di essere prima in classifica si era già guadagnata diciamo la certezza di avere il fattore campo a vantaggio anche per la post season e queste sono cose che effettivamente alla lunga danno sicuramente un grosso vantaggio io invece giusto e chiudo il discorso su bologna notizia degli ultimi giorni voi sapete che l'eurolega è una lega semi chiusa dove ci sono 11 squadri che hanno una licenza pluriennale altre insomma che ce l'hanno biennale alcune hanno una wild card poi accedono chi vince l'euro cup però ad esempio su bologna stanno rivedendo in questo momento il fatto di poter concedere la licenza biennale e c'è il rischio appunto che l'anno prossimo bologna non possa possa non far parte del ranking delle squadre che appunto fanno l'eurolega sarebbe un problema e un disastro secondo me per la squadra ma anche per tutto il movimento italiano perché in questo momento l'eurolega è una lega dove ha forte trazione spagnola con tante squadre spagnole e avere una sola squadra italiana è abbastanza fatemi dire castrante per tutto il movimento quindi speriamo che appunto la virtus possa avere il rinnovo della ricerca anche per il futuro ma adesso vogliamo interrogare un pochino più partecipa in prima persona all'eurolega scusami allora io vorrei sapere prima di tutto le mie sono domande anche curiosità molto banali però esattamente cosa significa giocare quelle mille mila partite fare forse quanti allenamenti esattamente settimane esattamente quanto mi so dire però più che più che quanti non puoi finire più di tanto dove non per forza milano immagino se qualcuno magari quando viaggi qualcuno lo fa lì però la maggior parte a milano dai ecco tu sei passato comunque prima igor mi raccontava di tutte le squadre in cui sei passato no quando sei arrivato a milano e hai realizzato che comunque stavi prendendo un volo per andare a giocare una partita di eurolega quelle sono state le tue emozioni perché insomma è il massimo campionato europeo cioè in ambizione no assolutamente lei che dire diciamo che me ne sono reso conto piano piano comunque andare a giocare in certi palazzetti vedere certi giocatori però principalmente me ne sono reso conto la cosa che mi ha fatto più effetto quando proprio sono arrivato all'olimpia in prima squadra qualche giocatore importante c'era quando giordano è arrivato è più arrivano gli spolettori di vilano è più quello che mi ha fatto scattare e ho detto ok sono qua e poi man mano che te anderi in mano c'è anche abbiamo fatto anche delle amichevoli inizio anno contro squadre d'eurolega quindi è stato graduale però all'inizio quando ho visto con quei miei compagni ho detto ok sono qua è un po' diverso abbastanza sì abbastanza scusate ultimo ultimo tema dell'eurolega e poi poi magari passiamo al campionato italiano è stato un eurolega dove siamo partiti con due allenatori italiani appunto banchi e messina e poi nel corso della stagione altri due sono subentrati uno è rimasto uno è andato via chi è subentrato è andato via pozzecco con alterne fortune e l'altro invece è stato trinchieri che voglio dire subentrato alla guida del del dalgiris e ha fatto un grandissimo lavoro già confermato per l'anno prossimo e il trinca secondo me è uno di quelli allenatori che nella nel eurolega è diciamo ci sta alla grande ci sta alla grande l'ho già dimostrato in passato allenando il bamberg e il vajar monaco facendo anche vedere scorci verdi a milano qualche anno fa prima di accedere alle final four e portando milano a gara 5 appunto poi grazie per grazie a dio per milano c'è stata comunque la final four non finita bene però oggettivamente il trinchia secondo me ha dato ha dimostrato quanto sia alto elevato il livello degli allenatori in italia e tra l'altro prendo spunto da una frase di trinchieri in una recente intervista che parlando di settore giovanile ha detto il settore giovanile non crea i gallinari della situazione crea giocatori della fascia media che giocheranno poi dieci anni in serie a giudano un commento su questa frase concordi con questa cosa cioè effettivamente il settore giovanile in italia riesce a performare e a dare giocatori che appunto poi riescono a stare stabilmente in serie a mentre invece difficilmente un campione si forma il settore giovanile cioè un campione lo è già io una frase un'altra frase di messina è con certi giocatori non vai ad allenare cioè non li alleni vai ad allenarti con loro in palestra ci può stare sì come abbastanza d'accordo vabbè c'è un esempio di gallinari in corso il giocatore più forte come faccia in Italia quindi sicuramente non è che non gli è servito allenarsi a lui ovviamente avrà avuto aiuti importante anche lui però sono abbastanza d'accordo comunque e parlando anche con questo in generale cioè magari tu nella tua carriera di allenatore di centinaia migliaia di ragazzi e magari sai già che che tanti non non avranno l'occasione o è più difficile lì ci può stare come cosa però penso sia importante comunque anche formare non per forza campione può anche di far fuori soldi che possono sì che poi sono quelli che danno sostanza al movimento famiglia che fanno la cosiddetta vita da mediano se vuole tu usare pensi diciamo trasportando questa frase all'interno anche del mondo del basket femminile vale se d'accordo oppure oppure è qualcosa da dirci per me vale per me è molto valida come frase nel senso ci sono tanti giocatori tanti ragazzini che lo vedi già come in talento poi sai nella pala canestro conta tanto anche il fisico dipende anche dal livello fisico che possono aggiungere che quando quando allenavo mini basket maschile più maschile femminile non 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 vogliamo dire un aneddoto che forse nessuno sa ma il signore qua presente è stato allenatore di giordani quindi hai formato tempo vuol dire un giocatore di serie a perché lui aveva 7 8 anni o ne avevo 18 pensa che fa come era messa come istruttore allenatore ma si ho avuto la fortuna di avere lui ma lui era uno di quelli appunto che vedevi che aveva il talento poi suo padre è un armadio a quattro ante quindi ex giocatori di serie a che lui ha giocato adesi in serie a giocato all'orlandina più a capo d'orlando e quindi lui onestamente nel centro sportivo che era centro schuster abbastanza famoso a milano ci aspettavamo un po tutti che potesse arrivare poi sai non non sai mai come può andare con le fortune e infortuni trovo il talento fin da più quindi l'avevate puntato sì sì no a me è capitato anche un altro ragazzo che che adesso è in nazionale under 16 che aveva leonardo nicolodi e lui lui l'ho visto che era 2009 avevo un amico in olimpia e detto guarda guardatelo perché questo era il più alto della squadra portava palla insomma poteva sembrare un buon talento non era a livello di giordano un giallo di talento però era un che si poteva costruire adesso è arrivato in nazionale quindi in parte è vero nel senso se si parla di giovanile nel minibus che secondo me sono un po troppo piccoli per capire invece dove si possa arrivare chiaro che minibus che si parla più di capacità notorie in questo momento in italia quindi di far crescere capacità motori piuttosto che fondamentali e quindi col femminile potete fare lo stesso ragionamento no a femminile è un po spostato 100 spostato in avanti nel senso essendo che le ragazze crescono più in fretta crescono prima è più facile capire prima dove una ragazza possa arrivare è capitato con matilde villa e sua sorella l'onora o con carlotta zanardi con ilaria panzerra sono tutte ragazze che a 15 16 anni già giocava in serie a matilde villa e carlotta zanardi in particolare hanno fatto delle prestazioni nostruose quando erano ancora molto minorenni ma adesso non ricordo esattamente però a 16 anni matilde ha fatto una partita da 25 36 punti che è stata una roba monstruosa ne hanno parlato ovunque e ha dato anche visibilità al movimento quindi la femminile si capisce un po prima dove una ragazza possa arrivare poi ognuna c'è un percorso di crescita diverso quindi non si può dire per tutti è così poi loro sono proprio dei talenti cioè queste quattro per nominato sono proprio dei veri beh igor conclusa questa parentesi io direi che possiamo parlare della serie a considerando che domenica si è concluso il campionato la regular season e invece sabato iniziano i play off no iniziano i play off è stata una domenica particolare questa dell'ultima giornata di regular season effettivamente paradossalmente dalla quinta all'ottava che si giocavano partite importanti per migliorare il posizionamento appunto nel ranking tutte hanno perso tutte hanno perso e anche malamente mentre invece milano con una vittoria all'ultimo secondo in quel di cremona è veramente all'ultimo secondo secondo i due io penso che nello spogliatoio qualche giocatore o lo staff di milano abbia fatto una piccola statua melli che nel giro di pochi secondi piazza un triplone dall'angolo quando la squadra era sotto di due e poi sulla rimessa in attacco di cremona stop al giocatore che va a tirare e di fatto sancisce la vittoria di milano importantissima perché garantisce a milano il fatto di avere il secondo posto perché brescia vincendo in casa con brisi ok è terza e quindi diciamo in un ipotetico scontro diretto milano avrebbe comunque il vantaggio nel fattore campo in un eventuale semifinale con brescia cosa che dovrebbe essere anche adesso giordano sei libero di fare tutti i gesti scaramanti ci vuoi però insomma ci aspettiamo che milano arrivi serenamente a in fondo nei poi off e quindi ci aspettiamo una semifinale con brescia io vorrei spendere giusto due parole sulla partita di cremona contro milano perché comunque è una squadra che veniva da una da una salvetta meritata però comunque insomma ha lottato per per ottenerla e ha giocato una stratosferica partita contro di voi scusa giordano confermi no si si hanno giocato bene sono partiti molto forti qua tutto non avevo nulla da perdere noi siamo partiti un po un po contratti l'ultimo dai sono riusciti a aspettare effettivamente è andata così tra l'altro cremona se non sbaglio era senza il giocatore uno dei giocatori dei suoi giocatori migliore dei negrino io però è una cosa importante adesso avete giocato domenica a cremona in un palazzetto un po particolare insomma non proprio non proprio diciamo un po come giocare a belgrado ecco la domanda che ti faccio giordano quando staccate da partite di eurolega a partite di campionato e magari non andate a giocare in palazzetti diciamo non proprio attrezzati come quelli che affrontate dove andate appunto in europa accusate la differenza vi sentite un po spaisati oppure siete abituati non c'è questo tipo di problema ma no non c'è problema forse l'unica cosa che se giochi magari davanti a 15 20 mila persone forse un po cambia ti senti più carico sei più carico qual è stata l'aria avversaria ci avete trovato che tu hai trovato come più più calda nei confronti partizan partizan belgrado io penso che un'esperienza andare a giocare a belgrado contro il partizan o stella rossa tra l'altro altre due deluse dell'eurega e pensa che nella prima di ritorno a milano hanno vietato la trasferta e giocato ai tifosi della stella rossa giusto per far capire il livello di calma del pubblico vabbè detto questo poi giusto per analizzare le altre squadre in quinta posizione si conferma Reggio Miglia nonostante la brutta sconfitta di Sassari che chiude rispettivamente davanti a Pistoia e a Trento ultima nel ranking dei pre-off in ottava posizione troviamo Tortona poi due parole sul discorso salvezza Treviso vince appunto l'ultima partita contro Tortona e diciamo consolida la sua permanenza in Serie A abbiamo due piazze importanti che abbandonano invece la massima serie una è Pesaro e l'altra è Brindisi che quindi retrocedono in A2 così pensiero mio piace molto per Pesaro vedere una piazza così importante retrocedere tra l'altro Pesaro che voglio dire era anche partita bene durante il campionato mi ricordo anche una bella vittoria nel forum a inizio stagione l'arrivo di Cinciarini che comunque aveva portato entusiasmo ma di fatto poi durante la stagione diciamo troppi equivoci soprattutto lato americani e mi permetto di dire non parlerò mai male di un personaggio come Sacchetti perché essendo io di cuore Varesino non posso mai parlare male di una bandiera ma non è proprio l'allenatore giusto per una squadra che si deve salvare è un altro tipo di allenatore è un altro tipo di gioco insomma Pesaro purtroppo io dico retrocede insieme a Brindisi altra piazza importante che fino a qualche anno fa era anche protagonista nelle competizioni europee vediamo cosa succederà stanno già pianificando come organizzarsi per tornare alla massima la cosa un po' che fa riflettere secondo me è anche il fatto che con queste due retrocessioni le squadre in serie A della centro-sud si riducono drasticamente perché le uniche che rimangono sono Napoli e Scafati sì è vero anche se in A2 c'è una squadra che diciamo è la massima candidata a salire che è Trapani vedremo poi cosa succederà mentre invece mi permetto di fare un commento sul grandissimo campionato che ha fatto una squadra che tu conosci molto bene ossia Brescia Brescia per lunghi tratti è stata anche prima in classifica e regular season ha buttato un po' le ortiche nelle ultime giornate con delle sconfitte un po' sanguinose la possibilità appunto di chiudere prima o seconda però direi un campionato eccellente una squadra secondo me molto forte e molto ben strutturata allenata da un grande allenatore e con un grandissimo giocatore che secondo me è Bilan che è uno dei centri con cui veramente quando ci giochi contro ti viene il mal di testa per tutto il lunedì Camilla io so che tu hai un po' di simpatia per questa squadra insomma sì beh devo metterlo sono bresciana quindi in conseguenza ho seguito tutta la stagione di Brescia in realtà l'ho seguita anche quando c'era Giordano a Brescia e tempo addietro si è fatto una stagione strepitosa soprattutto a mio avviso riuscendo a come si dice in gergo togliere le castagne dal fuoco in alcune partite che sembravano perse mentre nelle ultime nelle ultime uscite è stata un po' cricchiolante le partite che secondo me una tra tutte diciamo è quella un po' più nella sconfitta che secondo me ha fatto un po' più male è stata quella di Sassari perché Brescia stava vincendo e è stato perso un pallone nel giro di pochissimi istanti Sassari ha portato a casa la partita diciamo che da dopo nel final eight è un po' sparita dai radar sì due sconfitte sanguinose quella di Sassari aggiungo io quella di Pesaro dove effettivamente lì ci ha capito poco un po' tutta la squadra ed è un peccato tra l'altro è vero è grande stagione e quello che mi sorprende di Brescia è il grande fermento che c'è in città per questa squadra il grande amore il parazzetto sempre pieno è un popolo insomma che che secondo me quest'anno secondo me ci crede ci crede nel fare qualcosa di importante in campionato sì secondo me ha iniziato a crederci dopo la conquista della Coppa Italia dell'anno scorso nel tutto inaspettata perché la stagione che Brescia aveva fatto fino a quel periodo era completamente opposta a quella che aveva fatto invece quest'anno da qui infatti ci si aspettava di più anche in Coppa Italia effettivamente devo dire sono state fatte anche alcune dichiarazioni un po' avventate a mio avviso in merito a futuri scudetti e pronostici e così via vero è che secondo me si conferma adesso Brescia una delle una terza forza del campionato oltre alle melazonatissime Milano e Virtus insieme poi anche alla stagione che ha fatto Venezia che non è assolutamente da... Venezia quarta forza squadra molto forte molto tosta molto fisica chiedere referenze anche qui a Giordano io dico una cosa tu prima hai parlato della Coppa Italia la maledizione della Coppa Italia ha colpito anche quest'anno perché l'anno scorso Brescia vince la Coppa Italia poi non riesce ad andare bene in campionato quest'anno Napoli vince la Coppa Italia mi spiace Giordano ma in finale contro Milano non è voluta ma insomma e alla fine non riesce neanche lei a centrare i playoff dopo un campionato comunque sempre in zona in zona di classifica alta e diciamo che la Coppa Italia... Meno quella era partita anche estremamente bene dal formico in campionato sì 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 assolutamente diciamo che la Coppa Italia a volte se sei una squadra molto organizzata riesce a darti quel booster in più per affrontare il finale di stagione se sei una squadra che non ha un roster profondissimo o magari non ha giocatori abituati a vincere a volte fa calare un po' diciamo l'attenzione e l'intensità sul campionato però intanto si è portata a casa un trofeo a Napoli quest'anno quindi gli facciamo i complimenti e aggiungo io meritatamente mi ha portato a casa la Coppa Italia parte dalla vittoria contro Brescia che è stata estremamente meritata secondo me quella di Napoli poi scusate ma io devo citare Michael Brown che è in finale è venuto ad ascoltarmi no? al time out no sì sì ti è apporto di lui sì però poi non so se quella poi con la rimessa lì mi sa che poi l'avevano data a loro alla FIVE quindi non so se poi credo cioè era il time out per fare sì per noi ma poi hanno cambiato mi sa che era quello beh quindi adesso cosa vi aspettate chiedo a tutti vabbè tu sei un po' esente da questa domanda da questo finale iniziatore che secondo me è ovviamente la parte anche più interessante allora io per quanto mi riguarda sono abbastanza classico cioè mi aspetto delle semifinali non rischi scontate quindi Bologna contro Venezia e Milano contro Brescia metto un circoletto rosso proprio sulla serie Milano-Brescia perché sarà secondo me una serie durissima e potrebbe dare anche un vantaggio a chi uscirà dall'altra serie tra Bologna e Venezia onestamente se c'è in questo momento una squadra che è in favore del pronostice è Bologna per la finale mentre invece sono molto curioso di vedere come andrà a finire dall'altra parte del tabellone le mie favorite rimangono Milano e Brescia però non do per scontato Milano in finale questo sì lo devo dire perché la squadra di Brescia quest'anno ha dimostrato di poter mettere molto in difficoltà Milano l'ha dimostrato anche al Forum recentemente poi chiaro Milano è una squadra che come dicevo anche qualche settimana fa è una di quelle squadre di Euro che di stazza di Eurolega che volendo può disporre delle proprie avversarie in campionato però non sempre ci riesce e quindi questo è il mio personalismo pronostico Simone? io do finale per il quarto anno di fila Milano-Bologna e do un 5% in più di favore a Bologna per il fattore campo solo per quello però secondo me potranno ma quindi non c'è secondo voi un outsider che potrebbe scompaginare completamente però in serie come una semi-packed sono tutte su 5 per il fattore è dura battere tre volte Milano però immagino su 7 va beh Giordano cosa facciamo a Isente direi di sì direi di non fare la domanda anche perché poi la scaramanzia quindi in questi casi potrebbe essere esatto eviterei un piccolo cenno invece sulla 2 l'abbiamo già detto prima si è conclusa la fase di orologio sono iniziati i play-off c'è una squadra che ha fatto grossi investimenti quest'anno che è Trapani un po' a sorpresa e secondo me ha buone possibilità di salire in A1 tra l'altro il campionato di A2 è un campionato massacrante con tantissime partite con trasferte molto impegnative quindi prima una squadra riesce a ritornare in Serie A prima si viva di un bel peso ci sono due gironi dove verranno fuori le due squadre che andranno in Serie A in una probabilmente la finale sarà tra Bologna e la Fortitudo allenata da Caia e Trapani nell'altra vedo favorita Trieste ma proprio di poco breve c'è non questo solo due poi magari nelle successive puntate faremo un po' il punto della situazione di come andranno a finire i play-off perché sono anche abbastanza diciamo in contemporanea no? sì sì e sono sempre anche serie molto interessanti sì nel frattempo ti do un aggiornamento invece sulla partita di Eurolega tra Panathina e Cossi e Maccabi risultato a termine del secondo quarto perfetta parità 41 a 41 quindi si conferma sono coerenti si conferma l'indecisione totale tra l'altro ricordiamo a Maccabi che da ottobre gioca in trasferta non gioca mai in casa e secondo me meriterebbe proprio di andare in finale ma qui mi fermo perché poi subentono altri discorsi geopolitici di cui non possiamo parlare beh allora io a questo punto interrogherei Simone no Giordano è ancora arrivato il tuo momento per quanto riguarda il basket femminile no? allora io sono entrato adesso mi ricordo 4-5 anni fa nel basket femminile grazie al Sangha grazie a Franza perché bisogna dire che è il merito di Sangha che è la prima squadra che dopo 30 anni gioca in auve lo ha riportato Milano in un prima allenavo nel maschile appunto a Vicente Schuster e ho avuto la possibilità di andare in questa società di alto livello femminile siamo una società che sta anche sempre più crescendo a livello giovanile che comunque era sempre stata a un buon livello e è diverso allenare maschile e femminile onestamente ci vuole un livello di empatia e di controllo delle emozioni un po' diverso stai entrando in un terreno molto pericoloso quando mi sono avvicinata al calcio femminile ed effettivamente il mister della squadra per cui lavoro viene dal calcio maschile e ha detto le stesse identiche cose allora premetto che lui dice sempre che non esiste calcio femminile e maschile ma un solo sport immagino che sia possiamo essere sui d'accordo anche per gli altri si scelte però effettivamente faceva più volte accennato a questa per anche alla gestione dello sfogliatorio sì è un po' diverso poi guarda ti devo dire che quello che ho notato abbastanza presto è che a livello tattico proprio a livello di scelte tattiche sono molto più sprint dei maschi soprattutto verso 13 14 anni forse proprio perché crescono prima sono un po' più mature e quindi riescono a fare delle robe e avere delle letture più chiare di un ragazzo ovviamente io sai poi quando allenavo maschile non l'ho allenato a un livello tale per cui posso fare un reale paragone qua invece alleno a livello di squadre che lottano per fare le finali nazionali quindi è un po' diverso però abbiamo un under 15 che settimana prossima del sanga andrà a fare le finali nazionali sì sì andiamo a San Vincenzo a giocare le finali nazionali un po' da outsider a cercare di divertirci un po' però è diverso sicuramente diverso allenare un schile femminile un altro mondo per lo stesso sport e c'è qualcuna delle vostre piccoline che ogni tanto si aggrega sì c'è stata una ragazza che si chiama Giulia Finessi che quest'anno ha fatto anche la sua prima tripla in Serie 1 che ho avuto la fortuna di allenare quando era in under 13 quando era proprio una bimba aveva 13 anni ed è cresciuta tutta nel sanga e adesso in Serie A non è l'unica nel senso ce ne sono state altre però a lei è quell'esempio più lampante diciamo che il sanga effettivamente a livello di basket femminile diciamo un blocco di ragazze che arriva dalle giovanini che poi si allena in maniera stabile come una prima quadra e anche 4-5 e si sono allenate stabilmente perché il roster delle senior è di 10 ragazze in cui ce ne sono ce n'è sicuramente una che ha fatto anche qualche anno in giovanile under 20 che è Susanna Toffoli che quest'anno ha fatto una stagione strepitosa e poi sì ci sono 4-5 ragazze che si allenano a rotazione di cui due sono fisse che si allenano quindi c'è un buon divide quanto sono in tutto le ragazze delle giovanile del Sangha noi siamo tanti perché abbiamo veramente la fortuna poi stai essendo a Milano in un quartiere molto popolato abbiamo la fortuna di avere veramente tante ragazze e ci sono alcune squadre in cui abbiamo addirittura due squadre qualche categoria in cui abbiamo due squadre e quindi sono tante abbiamo veramente tante ragazze sicuramente è una bella soddisfazione per Sangha e per Milano avere un vivaio importante femminile beh che dire sì sì un movimento importante è un movimento importante bene allora stiamo andando verso la fine della trasmissione e a questo punto iniziamo a prendere di mira un po' di più Giordano direi facendogli un po' di domande che in parte riguardano sicuramente il basket ma non solo allora io mi permetto di chiederti queste cose Giordano la prima il tuo amore per il basket ti chiedo quando è nato e quanto ha influito il fatto che già in famiglia c'era qualcuno che giocava tuo padre già giocava in Serie A ma ovviamente è un momento preciso in cui ho scelto non me lo ricordo però avevo iniziato con l'avviamento Nero all'agione Sicilia mi portava a questi campi dove si giocava il basket mi sono trasferito per Milano e ho iniziato con un avviamento sportivo allo Schuster e poi da lì quando con il lavoro di Simone esatto poi lì il primo che ha dato l'imprinting esatto e da lì 8 veri dovea 100% no no proprio in anni lì sono stati alcuni fra quindi scusami tu hai iniziato perché dal nulla hai deciso tu di andare o perché come Paolo in Gono ha iniziato per la pallavolo suo padre l'ha detto senti ti ho volto a fare uno sport e quello è non credo che mio padre mi abbia detto mio padre giocava non credo che mio padre mi abbia detto ti porto a giocare a basket una cosa del genere se non sbaglio sono stato io quello deciso almeno mia madre diceva così loro credo che mi hanno detto lo parla cioè sembra che Giordano abbia 50 anni no in realtà cioè in realtà è un bambino ancora fammelo dire cioè voglio dire invece non mi ricordo quando è stato che avevo tipo 5 anni 6 anni quindi credo che la loro idea era quella di portarmi all'avviamento sportivo che quindi si faceva calcio maschi tutto insieme così e poi da nieve però cioè non ho mai avuto dubbi sul momento che ho iniziato a giocare ho detto questo il mio sport ho sempre fatto quello senti Giordano invece quando sei arrivato a Milano quest'anno perché tu sei delle giovanili di Milano cioè il tuo cartellino è di Milano da sempre in poche parole però quando lei già accennato prima sei arrivato quest'anno a Milano hai trovato un ambiente insomma di giocatori che qualche esperienza ce l'hanno e qualcosa nella vita hanno vinto qual è stato il giocatore dove se hai avuto veramente un attimo dove ti è caduta la mascella vedertelo davanti insomma una sensazione un po' strana dire cazzo sto giocando con questo giocatore se c'è stato il primo giorno per l'entrato dalla vacanza mi hanno detto veniti non so perché eravamo detto solo a me veniti venivano a fare un po' di allenamento e io pensavo di essere da solo e poi sono entro a scuola e c'erano a Milano porti via uno dei giocatori più vincenti del mondo probabilmente la prima cosa che mi hai detto no vabbè mi sono presentato poi mi ricordo mi aveva detto sono qua per fare una grande sognone così quindi era carico e poi aveva pure detto usciamo fuori a cena e poi alla fine poi sono arrivati tutti gli altri e siete uccisi com'è l'ambiente tra di voi vi frequentate tanto poi devo dire mi trovo molto bello è un bel ambiente sì sì perché ogni tanto vedo delle facce da morto in Eurolega quando giocavate in panchina ma perché vabbè non vado avanti scusa andiamo avanti andiamo avanti senti un parere su un giocatore che secondo me è fantastico anche che il Tostano è stato veramente sportolato Billy Byron o tra l'altro il Tormaton nella Verga ti sei un po' ispirato a lui nel modo di giocare? ma in realtà l'ho visto poco devo dire poi ho sempre avuto questo problema di vomito anche lui quando era fra noi mi ha dato volti con i sigli anche durante le partite o all'internale però ha giocato troppo poco con noi poi anche quando ha giocato era in condizione quindi ormai tu parli in inglese benissimo e beh benissimo beh che non parlate solo in inglese voi si non si no no capire capisco e poi devo dire che comunque anche negli anni anche prima ho sempre fatto amicizia quando mi viene da dire anche soprattutto con gli americani mi sono trovato bene e come allora tu perché erano quelle più lontane da casa non lo so eh ma cioè non lo so non so dirti perché però magari non lo so come è capitato sì come stile come stile di vita poi niente di particolare però magari non lo sia il primo è che appunto Dordano è un ragazzino in Italia non ci sono tanti ragazzini no l'avevi l'avevi detto anche tu che l'età media è piuttosto alta quindi tu sei uno dei pochi assodato ciò eh com'è il rapporto tra voi pochi giovani e tanti meno giovani sì che sono poi le colonne portanti della maggior parte delle squadre in Italia no eh tu intendi nel momento in cui uno entra in squadra o poi in generale sì non c'è io te lo chiedo invece in maniera più esplicita cioè quando giocate contro un italiano di esperto e magari inizia una marcatura pesante inizia un raddoppio inizia una roba cioè magari non viene presa tanto bene da che voglio dire un giocatore esperto si fa soffiare da un boccia come si dice in gergo no ci sono reazioni diciamo un po' cattive oppure no 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 ma io ho sempre portato rispetto a tutti comunque credo che quando arrivi a certi livelli devi sempre portare rispetto a chi c'è prima di te ma anche a livello proprio di rapporto con cioè si sente tanto la differenza di età la differenza di friè dipende dipende come è fatto l'altra persona il veterano in questione perché cioè io mi sono trovato benissimo e parlavo come se parlasse con un mio petano con gente di con veterani magari di 35 anni e magari altri di 35 quindi così no vabbè e magari con altri magari hai meno punti in comune no e e quindi secondo me dipende più da chi hai da chi hai di fronte tra le squadre che hai in cui hai militato no hai trovato quindi più persone più grandi di te hai mai individuato un mentore o magari più di uno non ha avuto il tempo mi sa che non hai avuto il tempo allora mi viene in mente il primo anno quando ero in A2 che è il primo anno che ero uscito dall'Ilimpia all'Ignara all'Ignara all'Andate quindi quindi era il primo anno che ero per senior lì c'era Michele Ferri che adesso gioca ha giocato per anni in Serie A2 e lui mi era stato molto molto d'aiuto poi comunque vedevo che si allenava tantissimo che era un militare quasi sembrava e lui forse tra l'altro io aggiungo una statistica importante di Giordano che non so se sa ma lui è uno dei pochi giocatori che salendo di categoria ha sempre migliorato le proprie statistiche individuali corretto? lasciamo stare adesso l'Eurolega ma non guardo mai le statistiche mi interessa troppo però comunque sento che posso sempre migliorare al tiro ignorante è facile Giordano sì sì in questo sì è stato anche premiato come miglior giocatore della Basketball Champions League nel 2020 miglior giovani scusate miglior giovani giustamente tra qualche anno non dovete riferire nel senso ma già adesso beh una soddisfazione quest'anno si è ritolta con la partita con il Bayern Monaco è stato diciamo riconosciuto dall'Eurolega MVP della partita insomma io devo dire quella partita c'era l'ho salutato a bordo campo mi sembrava di parlare con una persona che era in un'altra dimensione tanto Raffili c'era forse non si ricorda nemmeno perché non ci ha fatto caldo non le guarda queste cose beh Igor cosa facciamo direi che siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di BasketZoom Europa ringraziamo sicuramente gli ospiti che sono venuti oggi a trovare sono stati interrogati che sono stati interrogati che ci sono dimostrati anche preparati devo dire abbastanza qualche cosa sanno e niente ci diamo appuntamento quindi alla prossima puntata con altri ospiti e chiaramente Giordano quando vuoi le porte quando sono aperte per magari vederci durante o dopo i playoff grazie a tutti ragazzi grazie per essermi qua ci vediamo la prossima ciao